Si poneva l'esigenza di portare, di uscire un pochettino dai soliti schemi della gita e aderire a questa iniziativa che io ritrovo molto valida, perché i ragazzi poi si divertono moltissimo, si divertono, la zona è chiusa, le strutture sono eleganti e ben tenute, quindi le classi che sono andate o che sono venute si sono sempre riproposte gli anni a seguire, questo è molto positivo ed è testimonianza del fatto che il posto piace e che voi lavorate bene anche da questo punto di vista. Lo staff tecnico portivo quest'anno ci siamo adoperati per avere addirittura e siamo molto contenti gli allenatori in lingua inglese e questo è apprezzato anche dai ragazzi. Mi consiglierei specialmente dalla mia zona perché vedo che sono poche le scuole di Parma che vengono di provare perché effettivamente si rimane veramente molto soddisfatto. Io mi sento molto tranquillo perché la struttura è chiusa, la struttura è proprio fatta in modo che loro non abbiano il pericolo della strada, e secondo me anche il livello di sicurezza che viene un pochettino garantito da parte dello staff e da parte della struttura alberghiera secondo me è abbastanza alto qua perché vedo che c'è un controllo abbastanza serrato e questo ci mette al riparo, ci mette al sicuro, ci mette in tranquillità per quello che riguarda un po' quello che fanno i ragazzi alla sera.